Grazie a tutti per essere tornati qui al laboratorio di pratiche sociali, oggi iniziamo la nostra giornata di lavoro con Ritorando Anna Lettrich che è stata con noi già ieri pomeriggio e ha facilitato un'interessante conversazione con i partecipanti intorno alle politiche sociali, alle pratiche territoriali e al mondo della progettazione culturale. Oggi proseguiamo la conversazione e scopriamo più da vicino la realtà di Connecting Culture che è stata fondata, come vi dicevo ieri, nel 2001 da Anna Lettrich e che è a seguito a Milano. Ok, grazie Anna. La Connecting Culture è stata fondata nel 2001, quando io ho cominciato a pensare di passare da quello che fino a ieri è stata la mia professione per una parte, per quasi una ventina d'anni, quello di giornalista al sole 24 ore, di passare dalle parole ai fatti. Anche perché le parole sembravano avere poca presa per quanto riguarda anche una critica diciamo dello scenario contemporaneo culturale. Allora mi è sembrato interessante cercare di passare dall'altra parte per capire come si poteva fare per costruire anche delle realtà diverse, sulle quali avevo anche pontificato per un po' di tempo. L'associazione è nata appunto prima di questa sede che vedete qua nella diapositiva, in un piccolo appartamentino con una persona che mi dava una mano e abbiamo cominciato a cercare di capire che cosa poteva significare fare dei progetti d'arte per la collettività con una serie di tematiche che potevano andare verso il sociale ma ritenendo però una particolarità e mantenendo anche la valenza estetica ad altissimo livello come può essere qualsiasi opera d'arte o qualsiasi iniziativa d'arte non pensata per l'ambito sociale perché come sapete c'è molta confusione anche molta sufficienza nel pensare il mondo dell'arte spesso diffida forse anche a ragione dei progetti sociali delle pratiche sociali spesso sono ben intenzionate ma sono anche abbastanza così limitate e limitanti possono non essere ben pensate insomma ci sono una serie di problematiche che di volta in volta abbiamo affrontato però sempre pensando di partire da una critica e da più che altro riempire dei vuoti che a noi e ai soci che hanno cominciato a lavorare con con noi a Connecting cercando di vedere laddove si poteva riuscire a così a concepire i progetti in maniera diversa che non partisse soltanto da una volontà dell'artista a seguire una sua vena una sua poetica ma che avesse invece anche un'idea di confronto o di dialogo con un pubblico o anche con un luogo insomma allora abbiamo scelto una una sede molto periferica questa è una cascina in un questo è un cortile nella zona sud ovest di milano è una zona a ridosso di alcune aree agricole residuali o che fino a ieri sono state considerate residuali e queste due vetrine che noi abbiamo così ristrutturati erano una magazzino edile fino a e le abbiamo ristrutturate e dentro questo spazio abbiamo creato una biblioteca come che qui vedete un archivio che è un archivio interdisciplinare tra arte architettura fotografia antropologia studi sociologici urbanistici un po diciamo tutta questa area che interessa il mondo dell'arte l'arena pubblica questo faccio scorrere qualche immagine questa è la cucina sala riunioni perché essendo un po periferici appunto ci cuciniamo qua mangiamo e facciamo anche le riunioni questo questo è la mascotta di connecting si chiama arry è sempre in cerca di qualcosa da mettere sotto i denti una delle prime cose che connecting cultures ha realizzato è stata la curatela di una mostra a città dell'arte con la fondazione pistoletto e il tema era arte pubblica in italia lo spazio delle relazioni e questo è stato nell'estate del 2003 salve quella che vedete è il secondo piano di città dell'arte chi di voi c'è stato forse riconoscerà queste finestre d'anno su un fiumiciatolo era un'industria tessile era uno stabilimento tessile che pistoletto ha trasformato nella sua suo quartier generale diciamo dal quale lavorano e per questa occasione massimo bartolini ha buttato giù le finestre e ha fatto diventare queste finestre dei tavoli ed è una metafora un po di quello che si tentava di fare questo tanto aprire a quello che c'era all'esterno per cui questa apertura è stato sul fiume e sulla natura che che esiste fuori dentro e fuori e poi ovviamente questo discorso del dialogo che comunque è al centro del lavoro che abbiamo fatto e la mostra è stata intesa più che una mostra è stata intesa però questo forse si è capito in pochi è stato intesa come una fiera ma la fiera una sorta di fiera alternativa alla quale potessero stare tutti gli stakeholders ieri abbiamo parlato di stakeholders cioè i portatori di interesse tutti i portatori di interesse di questo ambito per cui non solo una mostra di opere di artisti ma una mostra del lavoro compiuto anche da curatori per cui c'era a titolo anche da committenti perché le committenti cioè i committenti delle opere in ambito pubblico sono altrettanto importanti perché sono loro che comunque commissionano e sono loro che danno diciamo delle direttive cioè loro hanno come il committente di una volta insomma e per cui c'era la compagnia a san paolo anche banca intesa che aveva all'epoca un premio per l'architettura virtuosa c'era la regione toscana che all'epoca aveva un programma molto interessante che si chiama tra art e che molto legato al tema dell'immersione delle culture e della e delle opere pubbliche per cui era come riunire gli operatori di un settore questo era un po il senso di quella mostra oltre a far vedere delle opere di arte che si potrebbero chiamare a opere pubbliche questo per esempio è un'installazione del gruppo a 12 che un gruppo di architetti allora neonato adesso sono molti di questi sono docenti al politecnico e l'installazione si intitola temporary library ed è un container in cui hanno riunito in tutta una serie di pubblicazioni ed è diventato appunto un luogo dove si poteva così consultare tutti i testi che erano relativi poi a questi argomenti eccetera multiplicity è un collettivo di architetti urbanisti fotografi allora era stato fondato da stefano boeri dal fotografo francesco iodice palmesino insomma una serie di così di talenti molto secondo me importanti e questa opera qua è stata presentata la prima volta a castle la documenta 11 e si chiama solid si e noi l'abbiamo presentato per la prima volta in italia lì a la città dell'arte l'opera è una video installazione con una serie di monitor e in ognuno dei monitor c'è un pezzo di racconto che è la storia di una nave fantasma che appunto sulla rotta di malta aveva a bordo quasi 300 immigrati clandestini in questo caso cingalesi e naufragato la notte di natale del 96 e hanno perso la vita tutti e questo è un dramma che come sapete benissimo ha continuato a ripetersi fino adesso e questo è stato un'opera secondo me veramente seminale perché raccontato da diversi punti di vista questo signore che vedete lì è un portiere di uno stabile che ha dei parenti che sono appunto scomparsi in questa tragedia e tra le storie raccontate c'era persino anche quello dello scafista cioè di chi ha condotto le persone che era un libanese le persone lì per cui è veramente un tentativo corale di raccontare una tragedia che continua a essere continuano a essere delle tragedie annunciate e per le quali appunto questo mare il mare nostro mi è diventato mare invece solid si un mare di di cemento mare peggio insomma un mare che che affossa e che non e non non più un mare di comunicazione e di che che unisce stalker e sono sono stati anche gli stalker a questa mostra forse voi conoscete gli stalker hanno lavorato anche qui in puglia un collettivo di artisti architetti tra cui lorenzo romito francesco careri sono forse i due diciamo esponenti più brillanti direi e qui c'è la loro l'opera che forse meglio li rappresenta che tappeto volante tappeto volante è un'opera che hanno costruito durante un laboratorio a roma con i profughi kurdi lavorando proprio le diciamo le geometrie e i volumi all'inverso della cappella palatina di palermo come sapete forse la cappella palatina è stata costruita con le maestranze di origini islamiche e tant'è che anche le proporzioni le geometrie sono richiamano molto così strutture del mondo anche iraniano e questa realizzazione è stata fatta con corde e con con dei pezzi finali di rame per cui hanno costruito questa questa volumetria all'inverso come fosse una sorta di così di tenda sotto il quale puoi andare è un'opera secondo me molto bella e l'hanno portato un po in giro per tutto l'oriente è stata anche un po un simbolo diciamo di questa tentativo di ricondurre riavvicinare le culture a parte questa mostra forse una cosa più facile è farvi vedere alcuni progetti che abbiamo realizzato intorno alla nostra sede che è stata che vi ho fatto vedere all'inizio abbiamo cominciato a esplorare un po il territorio quello che poteva essere la natura di questi luoghi e la prima cosa che ci è venuto così da da fare era quello di immaginare o ridare una una visione una visibilità a dei territori che erano stati considerati dalla città dalla città completamente rimossi c'è questa bolla di verde che di cui vi parlavo ieri è l'intero in parco sud che in realtà è la storia anche di milano perché milano l'antica milano mediolanum è nata da il suo territorio dalla fertilità che è ancora adesso a e da questo territorio dove l'acqua fiora e anche oggi basta mettere non so una sonda per 50 metri e l'acqua fiora tant'è che nella nostra zona anche un se piove tanto adesso che comunque le industrie consumano meno acqua le strade vanno giù per cui rischiano di sprofondare dall'acqua che c'è per cui è stata proprio uno delle dei territori più fertili d'europa purtroppo sommersa dalle costruzioni in maniera cresciuta in maniera assolutamente disordinata come qui vedrete questa bolla di verde e ancora appunto questa area che conserva una dozzina di aziende agricole ed è un po uno spazio senza tempo comunque che ha delle logiche temporali che sono completamente diverse e che quasi annullano tutto quello che c'è intorno anche perché la città non sa di questa per cui anche i confini di certe zone tipo la barona sono dei confini murati che non comunicano in alcun modo con con questa area qui la vedete meglio è proprio una una bolla ci sono i terreni sono ancora coltivati soprattutto a riso riso cereali e ci sono delle delle fattorie di allevamento di bestiame c'è anche una fattoria che invece ospita una comunità terapeutica e queste sono alcune immagini alcune fatte da noi ed artisti alcune da diciamo dal parco delle dall'associazione parco delle risaie e dai residenti perché c'è un nutrito gruppo di residenti che è talmente innamorato di questo di questi luoghi che li fotografano l'inverno autunno la mattina presto la sera tardi quando ci sono gli stormi degli uccelli cioè in tutte in ogni momento tant'è che vi farei vedere un catalogo che abbiamo prodotto perché abbiamo fatto diversi lavori su questo territorio proprio perché diciamo è il nostro e vi posso lasciare per esempio questi questi cataloghi che sono catalogo di una mostra che è stato realizzato soprattutto con le fotografie degli amatori fotografia di dilettanti che abitano sul luogo e sembrerebbe davvero di non stare a milano perché comunque sono così fotografati con una tale amore e trasporto che che sembra così di un diciamo un altro ecco qui vi faccio vedere qualcuna di queste immagini queste sono tutte foto di dilettanti questo è quando sono allagati per il riso e vedi qua sul sull'orizzonte sembrano lontanissimi sono i palazzoni della barona e poi anche in lontananza le montagne perché comunque di se il monte rosa il monte bianco questa è una zona che è ricoperta da rogge queste piccole rogge per e anche la nostra cascina in realtà ha una roggia perché è un molino ha una roggia che gira tutto intorno e questo è un è un lago di risulta sempre dagli scavi una chiesetta c'è la chiesetta locale che questo una cascina di roccata che ed è stata una politica diciamo del alcuni immobiliaristi che è stato quello di acquistare i terreni o acquistare anche le aziende agricole e lasciarle come spesso accade lasciarle decadere in modo da poter poi avere ulteriori così argomenti di convincimento nei confronti anche della del comune o delle autorità per abbattere tutto per costruire per fortuna attraverso un lungo lavoro di incontri anche con l'amministrazione pubblica in questo caso l'assessorato ai lavori pubblici e all'urbanistica del comune è stato molto più diciamo interessato e comunque ci ha aiutati di più della provincia che avrebbe avuto invece la responsabilità di questi luoghi perché comunque il parco agricolo sud è in capo alla provincia questa è la tipica casa delle zone agricole milanesi che erano molto grandi vedete quante persone ci lavoravano e poi ovviamente questa zona spesso zona di orti clandestini di così di movimento terra tutte attività in deroga che in realtà non si dovrebbero neanche fare ma che comunque sono state concesse adesso tutto questo probabilmente si sposterà verranno la quattro la metropolitana la linea nuova linea 4 fra qualche anno e la diventerà diciamo più integrata alla alla città ma l'importante per noi è che ci fosse anche una relazione con la città e che si tentasse anche di sfruttare un'occasione come l'expo del 2015 per renderla più visibile e per dargli anche una progettualità che fosse così a beneficio della cittadinanza paesaggi straordinari è un è un workshop che noi abbiamo fatto insieme al Politecnico di Milano e insieme al Naba che è un'altra scuola d'arte a Milano e proprio di diciamo di ricognizione perché questo è un pochino vorrebbe essere anche una esemplificazione di come spesso lavoriamo quando facciamo progetti di rigenerazione urbana si parte da una ricognizione e anche in un altro progetto Milano e oltre abbiamo usato in vari modi ma insomma siamo partiti da quest'idea di mettere sulla mappa i luoghi per cui la contestualizzazione di questo luogo che comincia con appunto una mappa di una macro area e legandolo poi a tutte le altre zone verdi e anche agli altri parchi di Milano e attraverso questo salve attraverso questo workshop abbiamo tentato di anche inventarci delle chiavi di lettura che ci sembravano importanti per questo specifico luogo siccome è una bolla di verde all'interno della città che però non comunica con la città una delle problematiche era di capire laddove ci fossero dei confini apribili e dove potevano esserci delle entrate a questo luogo per cui l'accessibilità è una prima mappa ha appunto coinvolto appunto chi ha partecipato a questo workshop nell'identificare dei possibili punti di di entrata e di uscita dal dal parco per varie forme di viabilità per cui la metro per cui la porta della metro l'autobus chi va a piedi e chi invece in bicicletta l'accesso per automobili cercando di così di realizzare una sostenibilità poi ovviamente tutti questi progetti sono non l'ho detto all'inizio però ovviamente un criterio base è quello della sostenibilità di ovviamente di tutti questi valori di cui di cui si parla normalmente comunque di una di una di un utilizzo virtuoso dei luoghi in questo caso se si parla di agricoltura urbana e la costruzione di un parco agricolo urbano c'è il problema della fruizione da parte degli utilizzatori cioè un parco agricolo non è un parco to cure per cui non ci si può sdraiare sulla sulle risaie nascenti perché comunque si distruggono distrugge il raccolto ci sono delle delle cose che bisogna osservare bisogna sapere per cui c'è un problema anche di educare questo pubblico che poi dovrà usufruire di questo parco ecco queste sono diverse forme per esempio viabilità interna si è un po studiato anche quali sono i percorsi che si possono fare come li si può fare come li si può studiandoli in diverse stagioni per cui abbiamo realizzato quattro mappe stiamo adesso facendo una guida di questo di questi spazi che sono delle guide stagionali invece di una guida tour che cosa puoi trovare nei diversi luoghi nelle diverse stagioni dell'anno alcune poi rilevamenti erano anche indirizzati a cercare di far maturare una sensibilità si è parlato ieri molto anche di questo di favorire una una sensibilità per cui favorire anche la sensibilità dello sguardo in fondo che cos'è un paesaggio è una complessità di segni stratificati nel tempo e questi questi segni come li si riconosce spesso sono dei segni minimali per cui è importante capire e riuscire a anche restituire un non distruggere nella volontà di ricostruire no questo è per cui abbiamo tentato anche una lettura grammaticale di questi territori che fosse legato per esempio all'orizzontalità allora nel momento in cui si va a porre dei segni che possono essere segni che aiutano il fruitoria guidano il fruitore nel parco e non fare degli elementi di non aggiungere degli elementi eccessivamente verticali o che non distruggessero comunque questa orizzontalità che rispettassero anche la natura di questo luogo per cui anche quello di notare osservare e rilevare delle qualità dello spazio è un aspetto importante del di un progetto un aspetto per esempio molto importante di questa zona sono i fontanili perché sono anche il tentativo di restituire la memoria di un paesaggio padano cioè si parla tanto di padania purtroppo in termini assolutamente faziosi e retorici nella leghisti eccetera in realtà si ha pochissima memoria di che cosa è stata la padania e che cosa è stata anche l'agricoltura che ha veramente portato poi la ricchezza a queste zone e i fontanili e le marcite che sono due caratteristiche della campagna lombarda sono andate completamente dimenticate le marcite sono dei campi dove l'acqua fiora e questa velatura d'acqua sono sono costruiti in leggera pendenza verso l'esterno e permetteva agli agricoltori di avere due volte l'anno anche durante l'inverno abbastanza cibo per per gli animali perché comunque permetteva siccome era acqua calda che riscaldava anche il terreno permetteva di mantenere viva anche l'erba e dunque di poter nutrire gli animali anche nei mesi invernali e questo è stata una delle diciamo logiche che ha portato avanti per secoli quindi l'agricoltura in questi in queste zone per cui quello di insomma mantenere oddio qui ho sbagliato cosa ho fatto ok ecco queste sono tutte altre visione orti ecco gli orti sono una una parte importante di questa zona e ci sono gli orti come vedete ci sono gli orti clandestini che sono gli orti così costruiti che non privi di una loro poesia io trovo da persone anziani che comunque ci sono messi più o meno abusivi e poi ci sono questi orti qua che sono degli orti che un privato un architetto che si chiama cristofani ha realizzato con a mio parere un grande impegno civile ha messo a frutto questo terreno che era di proprietà della sua famiglia non non solo realizzando degli orti che poi affitta a prezzi credo sulle 300 euro l'anno alle famiglie che vogliono coltivarle con delle regole perché c'è una delle regole molto severe per cui se uno non lo non non lo utilizza perde il diritto di averlo poi insomma c'è una serie di regole per cui non si disturba il vicino puoi costruire anche un ombrellone eccetera puoi mangiare ma non più ha aggiunto anche dei giochi per i bambini è diventato un luogo di altissima frequentazione per è abbastanza grande perché adesso non saprei dire ma sarà almeno 500 metri per 300 adesso qui si vede poco però è abbastanza grande e appunto li affitta non con questi criteri un po pietistici del comune solo ai vecchietti solo ai quelli al di sotto di un certo reddito invece li affitta a chiunque voglia che però rispetta certi certe regole e questo è un esempio molto interessante poi lui è legato al movimento diciamo c'è un movimento internazionale degli artisti tedeschi inglesi svizzeri ed è molto attivo anche nel proporre una serie di anche possibilità soluzioni eccetera ecco qui nella mappa nelle varie mappe che abbiamo realizzato ci sono anche quelle che hanno come leggende le cascine e i diversi utilizzi che hanno le cascine cioè le cascine ai mulini in attività le cascine ai mulini da recuperare e le cascine esterne all'area allora in relazione a questo le cascine di milano noi abbiamo partecipato a una ricerca che aveva fatto Stefano Boeri prima di diventare per breve periodo assessore alla cultura che gli era stato commissionato proprio a Multiplicity Lab da parte del comune per censire le cascine nel territorio del comune di Milano il comune di Milano pensava di possedere una quindicina di cascine una ventina hanno scoperto più di 60 per dirvi il livello anche di attenzione da parte del comune per questi beni oltretutto l'interesse delle cascine è tutto diciamo il patrimonio rurale e che in realtà non è mai stato non ha mai avuto una tutela anche perché ovviamente dovevano servire a un utilizzo per cui nel momento in cui un agricoltore ha bisogno di aggiungere una stalla o togliere o cambiare qualcosa deve essere in grado di poterlo fare perché altrimenti la cascina l'attività economica decade però questo ha permesso di non proteggere delle strutture anche molto belle questo censimento è stato interessante e ha promosso per dirsi come possono anche avvenire anche dei processi o innescarsi dei processi anche virtuosi ha promosso un interesse per tutto il patrimonio rurale all'interno della città oppure poi i confini della città ormai non sono neanche più così definiti per cui diciamo tutto intorno che ha fatto da volano a una serie di progetti di recupero anche da parte di giovani di collettivi che hanno messo a bando una serie di strutture che danno non so l'utilizzo per 50 anni di una struttura in cambio di una ristrutturazione insomma ovviamente con un progetto con una progettualità e questo è una modalità secondo me interessante di usufruire del patrimonio e di magari valorizzarlo e metterlo a frutto perché l'alternativa è che questa struttura qua per esempio è andata in mano a dei privati che hanno abbottuto tutto e hanno costruito delle residenze però è un peccato che tutto questo diventa poi ovviamente c'è con i fenomeni poi conseguenti di chiusura dello spazio del verde eccetera eccetera i confini ecco i confini sono sempre un tema molto interessante da guardare con molta attenzione e la maggior parte di questi confini non sono neanche percepiti e qui per esempio sono i palazzoni della barona che ironia della sorte questi palazzoni della barona sono stati costruiti con le stesse tipologie diciamo ideali estetici di quelli che erano una volta le case agricole collettive diciamo padane soltanto che guardavano tutte al loro interno comunque guardano tutti al loro interno e hanno pochissima relazione con invece l'affaccio sul parco e lì come vedete da un altro lato c'è l'autostrada che è la città di Assago per esempio e qui con gli artisti e gli architetti del workshop abbiamo immaginato anche delle soluzioni che non tutti hanno condiviso perché i più duri e crudi degli urbanisti invece non vorrebbero mai mettere non so usare il verde in un determinato modo insomma sono molto modernisti in questo ecco non so se vogliamo discutere un po' questo progetto prima di passare a un altro che è Milano e Oltre che è un progetto diciamo sulle periferie se c'è qualche domanda o qualche commento mi viene un po' in mente il fatto in cui al valorizzare questo spazio questo parco la relazione che hanno avuto chi si trova appunto fuori quindi diviene anche uno spazio dove ok valorizzandolo mi permette anche di entrare in questo parco o si vedono un attimo anche esclusi i privilegi che potrebbero apportarci non ho capito per esempio chi ci abita di vicino ha la possibilità di entrare in questi parchi si parla di affittare a persone gli orti quindi arricchisce il territorio o soltanto quel pezzo di terreno soltanto il parco in realtà la possibilità si stende questo ma è una zona che è aperta per cui non è una zona chiusa è una zona poco visibile che pochi conoscono ed è diventato nel tempo una zona residuale dove non so si viene a buttare i materiali edili nella roggia piuttosto che perché non c'è presidio perché comunque non essendoci attenzione per questi luoghi tutto decade e tutto si degrada compreso anche gli edifici però invece i sostenitori quelli che hanno conservato meglio questi luoghi sono proprio gli agricoltori perché ci hanno tenuto e si sono battuti fino alla fine se esiste ancora questa zona è perché gli agricoltori si sono rifiutati di andarsene e non erano proprietari dei terreni i proprietari dei terreni erano grandi istituti come l'ospedale Pio di Milano piuttosto che l'igresti piuttosto che altri che comunque tutti volevano realizzare vendere i terreni perché comunque sono molto centrali e hanno fatto delle battaglie persino col comune io ricordo delle storie che mi hanno raccontato per esempio Fedeli, il battivacco sono i proprietari, sono i agricoltori di questa cascina che in una protesta degli agricoltori contro questa volontà di sviluppare la città in verticale hanno fatto una protesta con i loro trattori e i vigili hanno sparato nelle gomme dei trattori ci sono state delle cose anche drammatiche, assurde, ridicole tant'è che insomma esasperate questo parlo molti anni fa è un po' alla volta però c'è stata un'evoluzione molto lenta e adesso questo territorio è entrato nel PGT per cui non verrà più edificato rimarrà così e verrà con i soldi della perequazione per l'Expo dovrebbero spendere comunque dei denari sulla sistemazione di questi vialetti di rendere diciamo più adeguati all'utilizzo di un parco urbano un parco agricolo urbano per cui insomma il destino ormai di questo luogo è avviato a quello del parco agricolo urbano ed è uno dei parchi agricoli urbani forse più grandi di Europa ed è molto interessante come tipologia di parco perché comunque l'agricoltura ha molto da insegnare anche alla città forse per voi è molto più vicina questa realtà della campagna ma per una grande città non lo è affatto per cui se il battivacco fa una giornata aperta non so, la fiera forse una giornata aperta ci vanno migliaia di persone ma senza doverlo senza volerlo pubblicizzare più di tanto per cui questo è abbastanza interessante per loro c'è un'alleanza un'alleanza che dura però fino a un certo punto perché gli agricoltori sono sempre molto conservatori e sono interessati al loro territorio e alla conservazione ovviamente del territorio agricolo però sono anche molto timurosi di un parco urbano perché comunque hanno paura di essere invasi da orde di persone che appunto gli pestano le piante piuttosto che... e allora è vissuto sempre e bisogna essere anche molto rispettosi di questo perché di fatto per loro è la sopravvivenza è un'attività economica e bisogna anche capirlo come dicono loro sì, questo luogo si chiama parco delle risaie ma se domani il riso noi non possiamo più piantarlo perché i costi ce lo pagano troppo poco pianteremo un'altra cosa e giustamente può essere così le ripetute concrete sono state quelle di una promozione di una realtà di un lavoro capillare e attraverso anche le istituzioni è un lavoro anche politico di comunicazione è politico perché comunque questo ci ha permesso questo lavoro sì, di avere degli incontri con gli assessorati con l'assessora all'urbanistica e di promuovere questo e di promuovere un progetto di conservazione fondamentalmente per cui è stato un lavoro su diversi piani un lavoro di elaborazione di progettualità con una sensibilità per il territorio per gli studenti per cui c'è quel livello di utilizzo di quel livello lì e poi c'è un piano politico che è più propria sì, è un piano politico che è più, diciamo, di advocacy perché di fatto quello che noi facciamo è anche questo è quello di advocacy che è più propria dell'istituzione Connecting Cultures che come membro del Parco delle Risaie associazione Parco delle Risaie che è un'associazione di residenti ha contribuito all'elaborazione di un progetto di conservazione che è stato anche adottato dal comune e noi abbiamo fatto questa mostra qua stiamo facendo la guida del parco per cui, diciamo, lavoriamo in questo caso abbiamo lavorato su diversi piani abbiamo fatto mostre all'interno del circuito dell'arte in Italia, a Milano con In Contemporanea per cui facendo mostre a partire da workshop che abbiamo fatto con dei leaflet con dei, così dei, come si chiama volantini in cui c'è scritto c'è già una mappa del Parco Agricolo Sud fotografie questo slogan i milanesi vivono in campagna ma non lo sanno tutte queste tematiche qua un po' tappezzando la città di queste cose per cui, diciamo è un'attività su diversi piani che riesce a avere interesse e magari anche parlando molto concretamente finanziamenti su diversi piani per alcune cose riesce a avere dei finanziamenti per altri no per i workshop fatti in collaborazione con l'università e con il Naba abbiamo avuto un finanziamento parziale dalle università perché erano come delle docenze per il progetto di mostra insieme all'associazione Parco delle Risaie abbiamo avuto dei finanziamenti della Cariplo perché fa parte di una progettualità e non era per la cultura ma era per la progettazione degli spazi che si chiama Spazi Aperti è un bando della Cariplo e per la guida che stiamo facendo adesso era un altro bando sempre per questo tema della valorizzazione dell'ambiente per cui si usano io ho partecipato a un master di paesaggio di Garuti sì no Garuti sai adesso credo che insegna poco ormai non lo so avrà partecipato lui ha partecipato a uno dei nostri progetti che è questo Milano e oltre e ha insegnato diversi anni a Brera però nel master che ho fatto io a Brera che era sul paesaggio sul tema della lettura del paesaggio lui non c'era no no ma questo ormai qualche anno fa non so se c'è c'è un altro genere di attività non so se c'è stato o se verrà in che tipo è stato mi pare che l'associazione appunto di affiancamento comunque è partito dall'organizzazione fino a poi all'individuazione di tutte le linee appunto sì ma per quanto riguarda la relazione con gli artisti che tipo di difficoltà hanno presentato se c'è stata o se ci sarà voglio capire sì allora abbiamo realizzato dei progetti diciamo effimeri non progetti permanenti sul parco e stiamo anche progettando delle presenze di artisti per esempio all'interno del padiglione della biodiversità per l'expo 2015 non abbiamo ancora la conferma che tutto questo avverrà ma penso che siccome tutto quello che riguarda l'expo è così volatile non dobbiamo neanche sorprenderci però diciamo che in questo ambito che è l'ambito diciamo ambientale il lavoro che abbiamo fatto è quello di mediatori culturali forse perché nel caso dell'expo per esempio abbiamo suggerito alcuni nomi e anche alcune procedure non so penso a un artista allora il padiglione della biodiversità dell'expo ovviamente è da un lato progettato da un architetto che si chiama Stefano Mirti e dall'altro dalla facoltà di agraria perché comunque è un percorso attraverso la biodiversità sia storica che mondiale no insomma il tema è questo allora abbiamo invitato alcuni artisti cito uno solo per esempio Emilio Fantin che è un artista che lavora molto un po' steineriano diciamo però lavora su questo tema della sostenibilità dell'ambiente e anche di una sensibilità autentica per i materiali e ci ha proposto un lavoro sulla canapa cioè di fare un labirinto di canapa in qualche maniera perché la canapa è una è una pianta che ha molti usi che è stata praticamente dismessa che ha una storia tutta italiana e che ha degli utilizzi infiniti che non solo soltanto per così tessuti eccetera ma anche per gli alimenti è una sorta di proposta virtuosa diciamo per cui ecco un po' in questo senso abbiamo adesso vediamo che cosa sarà possibile fare abbiamo proposto uno spazio all'interno di questo padiglione e speriamo che tutto questo potrà realizzarsi e anche all'interno del parco delle risaie si è realizzato delle installazioni così o dei progetti fatti da artisti durante ma più che altro diciamo è stato di natura progettuale fino adesso su questa area qua ok allora forse oddio però non ecco la cosa interessante forse da dire cominciando a parlare del nostro progetto Milano e oltre creatività giovenile verso nuove ecologie urbane è che come forse diversi dei nostri progetti ha diversi obiettivi che cerchiamo di mettere insieme uno è quello di dare a dei giovani talenti una possibilità di una committenza pubblica di lavorare insieme in maniera interdisciplinare per cui non soltanto artisti ma artisti architetti sociologi progettisti cioè diverse diciamo discipline è di lavorare su un'area molto ben precisa un'area della città che ha una sua definizione naturale per cui un quartiere riconosciuto come tale abbiamo scelto quattro quartieri Barona Bovisa Bicocca e Quartogiaro e sono quattro quartieri anche abbastanza problematici di Milano nel tentativo intanto con una prima fase che è stata una fase di ricognizione che è una fase per noi assolutamente fondamentale per capire dove si è e per capire anche quali sono le chiavi di diciamo di lettura di un di un di un luogo in base a quello che si vuole fare perché quando si parla di mappare la mappa non è un'operazione scientifica si pensa alla mappatura come qualcosa di realistico eccetera però normalmente quando si parla di mappa spesso si parla praticamente di una mappa stradale però tutto quello che lascia fuori una mappa stradale è enorme cioè è il territorio è il vissuto di un territorio e si possono fare ogni tipo di mappa ormai questo è un po' entrato diciamo nella cultura generale la mappa emozionale le geografie emozionali si è fatto un gran parlare di questo secondo me più che geografie emozionali sono interessati anche tanti aspetti un po' dimenticati o rimossi di un territorio che andrebbero forse anche rilevati in ogni caso ecco noi abbiamo lavorato su questi quattro territori insieme con diverse discipline abbiamo cercato di mappare queste zone con un primo tentativo di capire dove eravamo cioè se questa per esempio in questo caso se il territorio che stavamo guardando aveva soprattutto certe tipologie di abitazioni abitazioni condominiali singole negozi queste sono mappe un po' urbanistiche che ci sono stati utili per questo in questo caso qui stiamo guardando la barona e ognuno degli questo quartiere qua è stato ognuno dei quartieri che abbiamo così percorso ha avuto un artista che ha condotto un po' questo progetto in questo caso è stata Claudia Losi che è allieva di Alberto Garutti e nel scusa nel caso della Bovisa è stato Alberto Garutti stesso e ognuno degli artisti questa è una fotografa che ognuno di loro ha elaborato un proprio progetto all'interno del quartiere ha scelto in questo caso la Ticozzi ha scelto di entrare nel condominio questo condominio Aller e in vari altri condomini della zona per invitare le famiglie a così darle farle vedere raccontarle un po' attraverso le fotografie di famiglia quello che poteva essere il passato ricostruire anche il passato di questo quartiere attraverso le narrazioni e attraverso i racconti collettivi perché qui per esempio gruppi di famiglia e racconti insomma degli anni passati e queste immagini poi sono state scelte insieme alle persone e proiettate su cose tipo alle fermate degli autobus eccetera per cui sono diventati poster che sono stati un po' applicati in diverse zone della barona e questo è stato interessante perché ha coinvolto abbastanza anche la popolazione che insomma si è rivista nella propria storia questo è stato un progetto molto capillare diciamo virale di Cecilia Viganò che questa bambolina di carta è stata così ha creato una sorta di caccia al tesoro con tutta una serie di una vera e propria caccia al tesoro per trovare i luoghi in cui si nascondeva questa figura così un po' curiosa e tutto questo è stato riportato attraverso il web e attraverso la continuità sul web di questo progetto ha innescato dei processi simili in altre città e questo è stato molto curioso inaspettato da me che io mi sembrava un progetto magari anche con dei limiti in realtà non so una comunità di mamme di dublino ha realizzato proprio questo progetto l'ha messo in atto facendo una sorta di gioco di famiglia questo era una piazza abbastanza desolata della zona che è stata resa più facile da utilizzare dai ragazzini eccetera questo è stato interessante perché è il progetto di due stiliste due designer di moda che con delle donne pakistane della barona che hanno una piccola sartoria hanno realizzato queste tende che hanno chiamato igloo erranti e hanno messo in luoghi così particolari della barona invitando poi le persone a così raccontarsi all'interno di questa tenda questo è stato un progetto all'interno delle case Aller molto malandate sono molto importanti le case Aller in questa zona e c'è una sorta di spazio che potrebbe essere uno spazio comunale abbandonato da molto tempo e Barbara Rossi ha invitato tutti i residenti con cui ha stabilito un po' di relazioni nel tempo a una serata in cui si discuteva su questo tema della possibilità di utilizzo e di una sorta di esortazione anche di rimettere in circolo anche questi questi spazi che abbandonati diventano anche pericolosi ed è stato un momento molto divertente di proiezioni e di partecipazione di tutte le persone delle case Aller queste sono visioni di abbiamo fatto delle cartoline anche per promozione ok non lo so possiamo magari parlare un pochino anche di di questo tipo di progetto urbano se c'è la cosa c'è non so qualche curiosità su questi temi oddio in realtà però anche quello che fosse un progetto simile sempre di ricognizione tra coinvolgendo gruppi i vari quartieri periferici di Bari con interventi fatti nei quartieri eccetera però anche quello che è molto interessante è durata tutto ricordi tutto si svolgeva non so nell'atto di quanti mesi con una nostra propria parte diciamo però anche quello progetto finanziato da principi attivi Valentina non so se la conosce comunque continua si è un nome che conosco non conosco lei però voglio dire per quanto arrivare a quel progetto è possibile in quei sviluppi sul territorio che io sappia non è successo proprio niente è stato un momento anche interessante non so quanto o il quartiere ovviamente qualsiasi abitanti abbiano risposto però sarà successo 3-4 anni fa credo è molto è molto difficile valutare diciamo che cosa portano poi questi progetti perché di fatto a volte anche gli sviluppi sono sono nel tempo e sono anche nelle relazioni che si stabiliscono il problema nostro è la continuità questo è vero e si avverano questo è un male italiano un po' e le cose ancora più accentuate bisogna un po' crederci però per esempio adesso uno dei quartieri era Quartogiaro che qui non ho fatto in tempo a far vedere Quartogiaro è proprio diciamo uno dei quartieri più malfamati in assoluto in realtà il quartiere è molto migliorato negli ultimi tempi non è più quello che è stato poi narrato rimane un po' un'icona di quartiere malfamato perché comunque è entrata nella letteratura con i vari romanzi cose film anche che si sono fatti però un po' come il giambellino un quartiere però di fatto quello che ha cambiato moltissimo la vita la qualità della vita a Quartogiaro soprattutto in questo famoso questa famosa piazza che è stata ritratta più volte dal Corriere della Sera con tutte le serrande giù come una sorta di landa deserta in realtà quella piazza era di architettura moderna non è tra i luoghi più degradati e è bastato o comunque forse non è bastato ma una cosa importante per rianimare quella piazza e quella zona è stata la presenza delle associazioni perché un bar che è anche un arci un'associazione di fotografi noi abbiamo avuto una piccola presenza e poi diverse associazioni che ci lavorano hanno cambiato abbastanza la qualità della vita in questi luoghi per cui l'associazionismo secondo me è di importanza fondamentale ed è fondamentale che si radichi per cui non è l'amministrazione pubblica che si deve dedicare e l'associazionismo è la presenza capillare in rete di presenze sul territorio perché quello cambia perché cambia diventa un piccolo è a livello abbastanza basso penso queste statistiche fanno capire che comunque potrebbe essere molto più forte è secondo me un processo che lega le istituzioni che comunque se si vuole cominciare un lavoro di associazionismo cominciamo a rivolgerci alle scuole cominciamo a rivolgerci con dei progetti magari a poche lire o zero lire però dici facciamo un progetto con un'idea di progetto che le maestre o che le scuole possono sposare e utilizzare cioè cominci con dei piccoli progetti e attraverso i progetti che tu riesci a realizzare che in qualche maniera catalizzano anche attenzione perché attraverso le scuole puoi arrivare alle famiglie puoi arrivare a avere una sensibilità per un luogo costruire e subito al dopo arrivano i politici perché se cominciano a capire che comunque c'è un interesse che gli sta sfuggendo di mano per una cosa forse in un secondo momento possono cominciare a finanziare o cominciare a guardare con un certo interesse quello che si muove perché è un pochino legando le presenze istituzionali intorno a una anche una piccola progettualità che può sembrare anche modesta inizialmente che però secondo me invece innesta qualcosa sul territorio che è un processo inverso a quello del presidio del territorio da parte di presenze anche non so alla criminalità organizzata o quello che è insomma anche non essendoci nulla più che altro sì no no progetto a lungo termine più capillare che può essere anche ripreso magari non che sembra neanche rivoluzionario ma che però sì e che costruisca relazioni e che costruisca abitudine anche perché la scuola magari ha delle difficoltà a collegarsi direttamente con altre istituzioni o con il museo o con invece credo molto in quest'idea di curatela come mediazione culturale perché credo che è una sua funzione fondamentale quello di saper mediare i linguaggi e mediare anche la possibilità di lavorare e di far lavorare insieme le persone un'esperienza di questo genere qua cioè ho fatto per un progetto nelle scuole di Alecchio che è in vicino Bari poi tramite il Momart abbiamo fatto un progetto molto più vasto per le periferie questo per quanto riguarda le scariche possive le eco-mafie e quindi abbiamo fatto una mappatura di tutto il paese tutte le discariche e poi è entrata anche la politica di in mezzo dove alla presentazione della prima mostra perché da tutte queste discariche abbiamo recuperato dei materiali e creato delle opere all'interno del Momart e in primis ci fu laudati della costura di Bari che fece questo intervento poi la politica del paese stesso poi questa mostra è stata vista per la prima volta da diverse persone che l'hanno voluta fortemente in tutta la Puglia e quindi questa mostra ha girato per tutta la Puglia ed è stata un'esperienza bellissima per avere scuole medie scuole elementari che venivano solo ad osservare quello che si era creato però poi nello stesso tempo si rendevano conto perché vivendo fianco a fianco con la contadini gente che proprio vive la terra quindi queste discariche erano nei loro territori anche il niputino c'era il nome che aveva questo terreno e poi il niputino che andava in campagna e si notava e poi immediatamente riconduceva tutto il discorso del progetto alla discarica perché le opere erano veramente di impatto c'erano opere molto concettuali opere che risvecchiavano la campagna con quello che veniva buttato giù in campagna certo ma la cosa fondamentale è questo è quello di mettere in relazione le istituzioni e con un'idea creativa che diventa una sorta di piattaforma di lavoro e che al quale possono accedere in tanti è anche un po' questo il tema e credo anche tutto questo tema dell'inclusione sociale dell'inclusione culturale può partire e girare intorno a questo trovare una piattaforma comune cioè un luogo di incontro in cui attraverso un progetto però questo progetto può avere tanti attori come si diceva e questo non significa che tu devi diluire il tuo progetto perché il progetto dell'artista rimane quello non è che tu devi condividere la tua idea in questo cioè qualcuno lo fa ma non necessariamente il progetto c'è ha lavorato anche se il progetto quello di l'artista cioè c'era un gruppo di persone ma anche semplici curiosi persone che hanno la passione dell'arte hanno fatto queste escursioni insieme a noi a recuperare questi materiali cioè il progetto è stato meraviglioso difatti poi però per lei era più interessante diciamo l'aspetto progetto è che non i risultati finali perché poi alla fine i lavori realizzati con gli scassi però anche questo è importante era il concetto sì era quello il concetto ho detto cioè le opere stiamo pensando di chi ha realizzato le opere le opere io le ho vise insomma c'era o sentiamo hanno realizzato le opere non tutti ovviamente c'era un architetto che ha fatto con noi in televisione recuperate nelle campagne questo discorso tra un uomo e televisione e gli artisti coinvolti diciamo sì anche la gente ad esempio la Presidente di questa associazione che magari ha il piacere di ammirare l'arte di osservarla ha creato questo discorso di questa bambola che ha trovato lì per terra e gli ha ispirato quest'opera che c'era questa bambola che guardava il muro però c'era una ruota che come se fa minissima quindi non c'era la tensione riguardo al prodotto finale diciamo no la concentrazione era quella del materiale stesso ma vabbè la parte nostra diciamo era un po' più debole nel senso che alla fine diciamo le opere di impatto no? sì però diciamo però secondo me è giusto quello che dice lui che è il processo che in questo caso è interessante è molto difficile a volte questo anche nei progetti più importanti quando si arriva a mostrare i risultati di un progetto in un ambiente museale spesso non hanno niente che vedere con quello che si è fatto comunque restituiscono molto poco rispetto a quello che è stato il lavoro che è durato del tempo e non restituisce comunque le relazioni questo è uno dei problemi delle opere negli spazi pubblici perché di fatto sono molto difficili da relazionare e molto spesso delle opere compiute molto belle in ambito museale sono in realtà hanno avuto delle difficoltà che non vengono né ammesse né raccontate per cui spesso possono anche scippare da una comunità anche qualcosa cioè non sempre hanno questa però a questo punto abbiamo deciso di eliminare il discorso di fare una mostra all'interno di un luogo il Momart ma di andare nelle discariche creare un'opera nella discarica e lasciarla da lì perché alla fine sono strade frequentate nonostante sono di campagna ma quindi avete fatto una seconda sì abbiamo questa nuova idea di creare sia un percorso di passeggiata con la cittadinanza e di lasciare le opere nelle discariche cessare l'artista stesso al di là dell'artista ma anche il semplice e curioso devi stare nella monnezza sempre con mascherine un po' di belassi e creare queste opere che rimangono lì quindi un percorso l'opera non è più diciamo non c'è la connessione sull'opera ma appunto sul processo è un discorso sempre di magari non si è mostrato come diceva lei proprio in un luogo e come se si è andasse a perdere il processo se lo vai a valutare dall'artista tra il riguardo estetico non funziona invece ti racconta l'opera avete mai visto i lavori di Ukeles di questa artista Miele Laderman Ukeles lei è dagli anni 70 cioè lei è famosissima negli Stati Uniti perché dagli anni 70 lavora su questo tema del riciclo dei rifiuti urbani e di questa ha fatto questa famosissima così performance stringendo la mano a tutti i netturbini di New York e per esempio ha realizzato anche un progetto molto importante per un luogo che si chiama Staten Island e Fresh Kills che è una zona dove tutta la spazzatura tutta l'immondizia di New York va a finire in questo luogo è una discarica enorme è un'isola che è un'intera discarica e ha lavorato insieme a degli architetti anche lì un progetto ed è un progetto che dura da una vita perché il suo studio è negli uffici dei netturbini di New York per cui è proprio lei è lì io sono andata a trovarla lì e lei lavora insieme all'amministrazione per quanto riguarda tutto questo tema dei rifiuti e bisogna anche capirne i meccanismi per esempio se si volesse fare un lavoro che va un pochino più in profondità e che va un po' oltre a quello semplicemente della denuncia di una situazione di degrado se vuoi andare oltre per costruire un percorso che è anche un percorso di proposta secondo me bisogna capire i meccanismi come avviene tutto questo processo del riciclo del riciclaggio e come si può intervenire con un'idea creativa noi abbiamo in uno dei progetti che abbiamo fatto abbiamo portato un gruppo di artisti a lavorare sul depuratore di Nosedo allora mi spiace di non avere le foto qua ma il depuratore di Nosedo è un depuratore della comune di Milano che depura al 50% dell'acqua di Milano più o meno e questo depuratore è un luogo dove nessuno va e che normalmente le amministrazioni tendono a voler chiudere questi luoghi cioè farli diventare quasi nascosti perché hanno paura in realtà sono dei luoghi di nessun pericolo sono dei luoghi virtuosi che a mio parere andrebbero invece mostrati alla collettività perché il lavoro di riciclo e di purificazione dell'acqua è un lavoro oltretutto bellissimo per cui è la diciamo Mierle Laderman Ukeles lei ha fatto un lavoro proprio di evidenziazione di questi luoghi cioè di per cui c'è molto spazio per la creatività in questo ambito è una fotografa la Paola Di Bello ha fatto una serie di fotografie sulle varie fasi di questo e lì c'è anche spazio di ha realizzato anche delle installazioni su questo tema questo è uno dei dei temi che in tutto questo cioè porta conoscenza porta comprensione dei meccanismi e porta anche creatività sì bisogna fare una ricognizione la ricognizione la fai su su un progetto allora fai una ricognizione su come funziona nella tua città questo percorso dove vanno a finire e da lì parti per approfondire un attimino come si può intervenire noi abbiamo una scarica dove dovrebbe funzionare anche come tipo plastica vetro legno differenziata questa differenziata però in realtà a quanto pare non volendomi farlo entrare in questo posto perché volevo capire non funziona questa differenziata non c'è se io ad esempio cittadino dovessi buttare un armadio vecchio devo chiamare il comune l'ufficio apposto che passa col tiro gli faccio caricare l'armadio e loro lo dovrebbero buttare in realtà non funziona così sei tu che devi andare in discarica e non lo lasci all'interno ma lo lasci fuori perché poi se ne occupano loro per lo smarrimento quindi io avendo un po' di curiosità non ho mai avuto l'accesso a questo lavoro quindi mi fa dedurre che non c'è nessun no non puoi dedurre secondo me non puoi dedurre lo devi sapere no no non esiste questo cioè nel senso una ricerca è una ricerca per cui se fai una ricerca ti documenti seriamente e lo devi sapere le cose ma no ma cosa vuol dire no poi non è non è quello il problema secondo me una ricerca richiede così insomma documentarsi sapere come avviene il processo se non viene ok può essere però lì vai nella denuncia è un'altra cosa un'altra cosa però un'opera che si basa su un tema di questo tipo comunque deve avere un'idea chiara su su che cosa vuol dire anche riciclare anche in termini proprio anche filosofici e poetici riciclare significa dare nuova vita significa anche e allora in che modo che senso ha anche in termini traslati in termini anche no di rivivere o far rivivere degli oggetti si possono fare tanti progetti su questo ma dipende un pochino da da che strada vuoi prendere e i luoghi questi luoghi se si parla dei luoghi i luoghi sono interessanti perché comunque è una secondo me è una perversione che questi luoghi sono nascosti perché hanno paura della cittadinanza che non vuole il depuratore cioè il depuratore non è qualcosa che inquina è qualcosa che pulisce per cui è anche anche lì un po' ignoranza no è un po' mancanza di consapevolezza sì va bene ok